Ogni donna desidera avere al proprio fianco un uomo virile. Questo perché un uomo virile emana un'energia irresistibile ed estremamente attraente. Se ti senti ignorato dalle donne e vuoi uscire dall'anonimato, questo video è ciò di cui hai bisogno. Ciao, sono Davide Marsini e in questo nuovo episodio scopriremo insieme le sette qualità tipiche di un uomo virile che le donne trovano irresistibile. Comprendere e sviluppare queste capacità ti permetterà di essere desiderato dalle donne e di ottenere un vantaggio competitivo in ogni aspetto della tua vita. Prima di cominciare però, ti invito a seguire il mio canale YouTube o il mio profilo podcast per restare sempre aggiornato sui nuovi episodi. Detto questo, ecco le sette qualità che devi sviluppare. La prima qualità distintiva di un uomo virile è una presenza forte e impattante. Le donne desiderano uomini che trasudano fiducia ed emanano un'aura di autorità e leadership. Quando un uomo è in grado di catturare l'attenzione di chi gli sta intorno grazie alla sua personalità, allora si distingue dalla massa. Le donne sono attratte da uomini autorevoli, capaci di prendere in mano la situazione dimostrando leadership, poiché desiderano un partner che possa proteggerle e guidarle. Per sviluppare una presenza forte, devi lavorare sulla tua autostima e aumentare il tuo valore come uomo. Quando sarai in grado di accrescere il tuo valore personale, ti sarà più facile proiettare una presenza impattante, poiché avrai più autorità e influenza su chiunque ti circonda. Per approfondire su come aumentare il tuo valore come uomo, ho dedicato un intero manuale chiamato Metodo Magnetico, che puoi scaricare seguendo il link nella descrizione di questo video. La seconda qualità tipica di un uomo virile è la forza, che comprende sia la forza fisica che mentale. Essere fisicamente forte farà sentire le donne al sicuro e protette vicino a te. Mentre essere mentalmente forte dimostrerà che sei in grado di affrontare qualsiasi situazione difficile nella vita. Inoltre, la forza sessuale è altrettanto importante. Essere in grado di prendere il comando a letto dimostrerà il tuo potere e lei si sentirà attratta da questa sicurezza. Inizia fin da oggi a lavorare per sviluppare la tua forza. Potresti iniziare uno sport di combattimento, sollevare pesi in palestra, affrontare nuove sfide e mantenere il tuo corpo e la tua mente sani, eliminando brutte abitudini. Ricorda che la forza non riguarda solo l'aspetto fisico, ma anche la tua determinazione, la tua resilienza e la tua capacità di affrontare le sfide della vita con fiducia. Questo ti renderà un uomo virile attraente agli occhi delle donne. La terza qualità tipica di un uomo virile è la capacità di assumersi le responsabilità. Le responsabilità sono un segno di maturità ed è un elemento fondamentale per le donne. Gli uomini che si assumono la responsabilità delle loro azioni in ogni aspetto della vita risultano molto attraenti e rispettati dalle donne. Questo perché la capacità di essere responsabili dimostra che un uomo è in grado di prendere decisioni consapevoli e si preoccupa di se stesso e delle persone intorno a lui. Quando mostri un comportamento responsabile, trasmetti un forte senso del dovere verso i tuoi impegni con la tua partner. Niente è più apprezzato da una donna della responsabilità e dell'impegno in una relazione. La maturità si manifesta quando vivi con un uomo responsabile, capace di prendersi cura di se stesso e della persona che ami. Questo ti rende veramente virile agli occhi delle donne e instaura una base solida per una relazione significativa e duratura. La quarta qualità tipica di un uomo virile è la maturità, un aspetto di cui abbiamo parlato in precedenza. Essere responsabili dimostra maturità poiché un uomo maturo non si fa sopraffare dalle emozioni, positive o negative che siano, ma mantiene sempre un senso critico prima di prendere una decisione. Un uomo maturo sa prendere scelte ponderate utilizzando la sua mente razionale, anche quando è sotto pressione psicologica da diversi fattori. Un uomo maturo non si lascia sopraffare dalla frustrazione o dal dolore, ma affronta ogni situazione con compostezza e determinazione. La maturità indica anche la capacità di comunicare in modo efficace e di offrire supporto emotivo alla propria partner quando necessario. È fondamentale capire che le donne sono emotive e cercano sostegno dai loro partner durante i momenti difficili, ed è proprio per questo motivo che tu dovrai essere capace di fornire questo tipo di supporto. Essere un uomo maturo ti distinguerà agli occhi delle donne e ti renderà un partner più apprezzato e desiderabile. La maturità è una caratteristica che si sviluppa con il tempo e l'esperienza, ma cercare di essere consapevoli di essa e lavorare per migliorarla è un passo importante verso la crescita personale e relazionale. La quinta qualità tipica di un uomo virile è la fiducia in se stessi. La fiducia rappresenta da sola un pilastro fondamentale della virilità di un uomo. Non potrai mai raggiungere il tuo massimo potenziale nella vita come uomo se ti manca la fiducia in te stesso. Indipendentemente da ciò che gli altri dicono, sii sempre sicuro di te stesso. La sicurezza in se stessi ti beneficerà non solo a livello personale, ma creerà anche una connessione con le donne che ti circondano. Quando sei sicuro di te stesso, le donne ti desiderano perché vedono in te un uomo che non ha paura di correre rischi, che esprime le proprie opinioni e difende ciò in cui crede. La fiducia è contagiosa e quando trasmetti sicurezza, le donne saranno più propense a sentirsi più fiduciose di se stesse. Coltivare la fiducia in se stessi è un processo continuo e richiede sforzo e impegno. Lavora per costruire una visione positiva di te stesso, identifica i tuoi punti di forza e lavora su eventuali insicurezze. La fiducia è un'attrattiva naturale e una caratteristica che attira le persone verso di te. Sii sempre autentico e fai tesoro di te stesso perché un uomo sicuro di sé è irresistibile agli occhi delle donne. La sesta qualità tipica di un uomo virile è avere uno scopo di vita. Un uomo senza uno scopo è privo di valore e dignità, essenzialmente un essere inerte. Inseguire uno scopo, qualsiasi esso sia, dà significato alla vita stessa. Quando cerchi di raggiungere i tuoi obiettivi e metti impegno nello scopo che hai scelto, dimostri di avere una visione chiara e di essere determinato a realizzarla. Questo è ciò che attira l'attenzione di una donna. Vedere che sei un uomo autodeterminato, motivato e disposto a fare sacrifici per realizzare i tuoi sogni. Lo scopo che persegui non deve necessariamente essere straordinario o monumentale. Ciò che conta è che tu abbia uno scopo e che ti dedichi con passione a realizzarlo. Indipendentemente dalla grandezza dello scopo, avere una direzione nella vita aggiunge valore alla tua personalità e al tuo carattere. E le donne apprezzano un uomo con una forte determinazione. Quindi, continua a coltivare il tuo scopo di vita e sii orgoglioso della strada che stai percorrendo. Perché questo è ciò che ti renderà davvero virile e attraente agli occhi delle donne. La settima e ultima qualità tipica di un uomo virile è il rispetto per le donne. Indipendentemente da quante altre qualità virili possiedi, se manchi di rispetto alle donne non otterrai mai il loro rispetto e amore. Il rispetto per le donne è una delle qualità più fondamentali che un uomo può avere. Mostrare rispetto significa apprezzare la loro individualità e il loro contributo alla tua vita. Non devi mai sminuire le donne o considerarle inferiori a te. Un vero uomo virile dimostra sempre rispetto e onore per le donne. Il rispetto è il fondamento di ogni relazione sana e significativa. Trattare le donne con rispetto e considerazione crea un ambiente di fiducia e armonia. Quando mostri rispetto per le donne, dimostri anche il tuo valore come uomo, poiché una persona veramente forte e virile non ha bisogno di disprezzare o denigrare gli altri per sentirsi superiore. L'empatia e la considerazione per il punto di vista delle donne contribuiscono a costruire connessioni significative e relazioni profonde. Ricorda sempre che il rispetto reciproco è fondamentale per il successo di qualsiasi legame romantico o altro. Mostra rispetto verso le donne e ti renderai veramente attraente e degno del loro amore e apprezzamento. Bene, abbiamo esaminato le sette qualità che le donne apprezzano negli uomini. Se ti rendi conto di possedere queste qualità o se stai lavorando per svilupparle, sappi che non solo sarai desiderato dalle donne, ma avrai anche un vantaggio competitivo in ogni aspetto della tua vita. Prima di concludere questo video, ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al mio canale per non perdere altri contenuti interessanti come questo. Hai la possibilità di accedere ai miei corsi avanzati sulla seduzione cliccando sui link nella descrizione di questo video o podcast. Se necessiti di una consulenza, io offro anche sessioni telefoniche, dove la mia esperienza può esserti di grande aiuto. In questa puntata abbiamo toccato solo uno dei numerosi temi riguardanti le relazioni. Sul nostro blog troverai una basta selezione di articoli che potranno esserti utili in molti modi, oltre a poter ascoltare altre puntate del podcast. Visita il blog magnetismopersonale.com per accedere a una sezione esclusiva di contenuti premium che ti aiuteranno a scoprire molto altro. Basta cliccare sul pulsante rosso risorse sul sito. Ti aspetto al prossimo episodio, dove affronteremo altre tematiche interessanti sulla seduzione che potranno esserti di grande utilità. Grazie per aver ascoltato e alla prossima puntata!